Festa della Croce Rossa domani mattina a Sciacca in Piazza Angelo Scandaliato, una manifestazione articolata che prevede diverse attività. Domani sarà un concentrato di eventi, diciamo nell'evento, nel senso che l'abbiamo chiamato l'evento la CRI in Festa, perché promuoveremo quelle che sono le manovre salvavita, quindi condivideremo queste tecniche che ovviamente sono, diciamo così, dedicate a quello che è tutto il popolo, che ognuno di noi può essere una sentinella della salute, così chiamata. Poi un'altra cosa che faremo è che il Presidente della Repubblica ha, diciamo, conferito alla Croce Rossa la medaglia d'oro al valore alla sanità pubblica, ovviamente per quanto riguarda il periodo pandemico e quindi sarà una condivisa anche questo aspetto. In più avremo un valore aggiunto che sono i volontari della Samo Onurus, che è una società che si occupa di cure palliative e quindi loro spiegheranno, diciamo, alle persone che saranno in piazza, quello che sono, diciamo, l'importanza di avere, diciamo così, uno staff multidisciplinare durante un periodo non bello, che ovviamente i malati oncologici vivono durante questa, durante la loro vita e quindi l'importanza delle cure palliative in quel contesto. In più poi ci sarà anche un momento dedicato ai più piccoli, con dell'animazione, con dei piccoli gadget, poi ci saranno dei sanitari, medici, infermieri che si occuperanno della misurazione pressoria. Quindi anche lì un piccolo monitoraggio. In più a gennaio è prevista in programma un, diciamo, corso per gli aspiranti volontari e faremo vedere la piattaforma, diciamo, informatica che si chiama Gaia, della Croce Rossa, quindi a livello nazionale, dove come poter effettuare l'eventuale iscrizione per gli aspiranti volontari. Quindi sarà un'attività molto intensa. Una giornata di festa, ma anche l'occasione per stilare il bilancio delle attività svolte durante l'anno. Un altro anno intenso, noi svolgiamo, diciamo che non siamo molto avvezzi a quello che sono, diciamo, i media, no? Ci piace lavorare molto più in silenzio, nel senso che ci sono molte attività, tra l'accoglienza in ospedale, ad esempio, o un'attività di pronto farmo, che noi la facciamo quotidianamente, sette giorni su sette, dove portiamo dei farmaci salvavita delle persone con delle patologie molto particolari e ogni giorno i colleghi e le colleghe ovviamente raggiungono queste persone con i mezzi della Croce Rossa. Abbiamo fatto circa 26 mila consegne solo nel 2023, sono numeri molto importanti, e ci sono circa 20-30 volontari al mese impegnati solo per questa attività. E poi tutte le attività collaterali che spesso vediamo, anche con l'assistenza, diciamo, durante le gare veliche che ci sono state quest'estate, gli eventi naturalmente. Su questo, diciamo, sono, a parte i numeri e la presenza nostra, oggi ci rendiamo conto che sul territorio è sempre più richiesta. e facciamo anche i corsi di primo soccorso, sia per quanto riguarda i sanitari che anche dal punto di vista laico. Quindi dico, sì, è un anno, come tutti gli anni, molto importante. Sicuramente gli anni della pandemia sono stati un po' quelli un po' più duri, diciamo, per tutti noi, che hanno richiesto una presenza molto più massiccia, diciamo. E lì ci siamo resi conto ancora di più, abbiamo preso quella consapevolezza che il territorio veramente ha bisogno e quando vede la Croce Rossa ovviamente è sempre quel lume di speranza che arriva anche in condizioni molto, a volte, critiche.